Siamo pronti, partiamo, cos'è la nuova tappa? Ho perso il conto, non ho tappa, il tempo sembra tenere, quindi non vediamo l'ora di partire. Sì, ho guardato il Garibaldi, sì, è una carta, però dai, andiamo via tranquilli, da mangiare, ce lo siamo portati, batteria è carica, vediamo, ci vediamo all'arrivo, continuate a seguirci, ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!